Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Era da veramente un sacco di tempo che non mi ritrovavo a registrare per YouTube, ma diciamo che questa secondo me è l'occasione ideale, ovvero Sifu. Sifu, gioco che è uscito veramente da poco, ma che mi ha letteralmente conquistato in tutto e per tutto, portato ovviamente già in live e completato in live, in due giorni circa, se non ricordo male, però oggi ho deciso, o per meglio dire in questi giorni, ho deciso addirittura di registrare una serie completa del gioco di Sifu da caricare successivamente sul canale, giusto per avere un ricordo e giusto per avere appunto una serie dedicata a Sifu, perché secondo me se la merita davvero. Sifu ha una storia molto semplice, che adesso andremo comunque a vedere insieme, un gameplay veramente divertente, e se siete amanti dei Souls, diciamo, o comunque di quei giochi difficili dove bisogna, come dire, imparare e giocare bene, quindi concentrati, secondo me è un gioco che vale assolutamente la spesa. Io giocherò sulla versione PS5, quindi ovviamente non sono sulla versione PC, quindi non posso moddare e non posso fare altre robe carine, che comunque ho visto in giro su internet, però ci tenevo appunto a portare anche la mia serie cercandola di giocare nel miglior modo possibile, soprattutto con l'esperienza che ho adesso di gioco, ovviamente, anche perché voglio parlarvi e darvi anche dei trucchi, magari ce ne fosse del bisogno o magari qualcuno volesse appunto imparare meglio questo gioco. Detto questo, io direi che la mia età attuale, questo è il mio gioco principale, dove ho completato il gioco all'età di 25 anni, anche se poi diciamo che il vero finale, cioè il boss finale l'ho battuto a 61 anni, se non ricordo male, dove però a 25 anni sono arrivato allo stage finale, quindi direi che partendo da 20 anni, fare tutti e 5 livelli è come se fossi morto una sola volta durante ogni livello, e non è male. In questo nuovo salvataggio che faremo qui, ovviamente insieme su YouTube, voglio provare addirittura a morire meno, quindi riuscire ad arrivare allo stage finale addirittura con un'età inferiore ai 25, per me sarebbe una grandissima soddisfazione. Detto questo, cominciamo la partita, anche perché cominciare la partita vi catapulta direttamente all'inizio di tutto. Quindi, come potete vedere, il gioco si presenta appunto con questa schermata, con questa pioggia e con, diciamo, questo, in generale, questo setup abbastanza cliché, se vogliamo definirlo in un modo, no? Con quella classica giornata tempestosa che preannuncia una tragedia, un qualcosa di incredibile che ovviamente avverrà da qui a questa parte, quindi direi di iniziare la nostra partita. Ovviamente, esatto, qui partiamo con 8 anni fa, quindi un prequel, dove appunto impersonifichiamo un personaggio X, che noi effettivamente non sappiamo chi sia. Questo è il suo aspetto, sembra molto Shang Tsung da Mortal Kombat un pochettino, non lo so, mi dà tantissimo questa sensazione. E a questo punto direi che possiamo addentrarci. Possiamo addentrarci. Ecco, qui praticamente abbiamo il tutorial, l'inizio del tutorial, dove abbiamo la parata, abbiamo il parry, abbiamo la possibilità di effettuare attacchi leggeri e pesanti, e cosa più importante di tutte sono le finishing. In questo gioco sarà presente l'equilibrio, quindi per chi magari è amante di Sekiro, o per chi è amante in generale dei Souls, avrà la possibilità di capire questa terminologia, ovvero l'equilibrio. Una barra che si riempirà man mano, e nel momento in cui verrà completata, permetterà al nemico di essere ucciso istantaneamente. Qua esistono anche le interazioni, metto pausa, esistono anche le interazioni dove si può decidere cosa rispondere. Quindi, diciamo, delle risposte più pacate, educate, delle risposte che vanno a indicare un dubbio o una domanda in particolare, oppure la spavalderia. E qui si comincia il primo. Si comincia la prima mega scazzottata, la prima rissa. Vedete, nel momento in cui si riescono a parriare i colpi, si riesce addirittura a ridurre l'equilibrio tutto in una volta. Si possono anche schivare con il tempismo giusto, ovviamente, gli attacchi. In questo caso non abbiamo né vita, né nulla, proprio perché, appunto, è un tutorial, quindi siamo letteralmente immortali. però il tutorial ci insegna effettivamente che cosa fare. Qui c'è la fotografia di un nostro amico, qui c'è un nostro amico, un Dio, un nostro maestro, e qui abbiamo addirittura la prima arma. Esistono anche le armi. Lo stile di gioco è molto simile a quei cabinati che c'erano tanto tempo fa in giro. Uno che mi viene in mente era un gioco per PlayStation che si chiama Jekido. E ovviamente... Ecco. Io adesso la trama inizia a farsi un po' più interessante. Vi stavo dicendo che il gioco mi ricorda tantissimo un cabinato o comunque un gioco per PlayStation 1 che ho letteralmente giocato alla nausea che si chiama Jekido Street Fighters o Urban Fighters se non mi ricordo male. E veramente proprio quei vibes proprio di questa tipologia di gioco. Nel frattempo vi racconto anche un po' di lore dove appunto questi diciamo ninja fondamentalmente o comunque questi combattenti hanno effettuato una sorta di assalto nei confronti di questa baracca o nei confronti di questa scuola sembra quasi una scuola Shaolin una sorta di tempio dove appunto gli allievi stanno con il loro maestro e imparano delle tecniche o imparano in generale dei metodi di combattimento o comunque imparano il loro credo. Come potete vedere qui c'è un tizio che ha anch'esso il bastone e sembra anche essere poco raccomandabile. Sono stati picchiati tutti uomini persone magari un po' più anziane tutti quanti picchiati anche ecco atleti non propriamente atletici e andiamo avanti. Possiamo setacciare il posto anche per vedere un po' com'è la situazione ma qua non c'è fondamentalmente nulla cosa che nei livelli principali è ben diversa perché le esplorazioni ti premia sbloccando shortcut e sbloccando anche e sbloccando anche diciamo strade e percorsi nuovi cosa che vi farò vedere assolutamente anche se non sono riuscito a trovare ancora tutti gli oggetti nella mia partita principale però ho trovato la maggior parte degli oggetti quindi non è difficile missarli ecco mettiamola così è abbastanza semplice riuscire a reperire la maggior parte degli oggetti e a questo punto andiamo avanti verso la parte finale come potete vedere esistono anche delle tecniche per poter lanciare oggetti cose che comunque avremo modo di poter masterare man mano che appunto giocheremo questo ve lo sto facendo vedere soltanto perché sono abitudini miei mie del mio gioco principale ma si proprio neanche parliamo proprio andiamo avanti siamo decisamente più forti rispetto ai nostri diciamo ai nostri combattenti ovviamente noi siamo un combattente di altissimo livello almeno in questo tutorial siamo decisamente di alto livello infatti abbiamo tutte le mosse sbloccate abbiamo tutto quello che abbiamo tutto sbloccato vedete il nostro ninja qui in questo caso il nostro assassino quasi ci ha indicato dove poter trovare il nostro obiettivo che a quanto pare abbiamo un obiettivo sifu in cinese è maestro per chi non lo sapesse quindi il titolo è proprio quest quindi ci scontriamo col maestro in questo caso un obiettivo Grazie a tutti Il maestro sembra ancora capace Mettiamola così Grazie a tutti 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 Benissimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il deposito Grazie a tutti 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 Ecco qua Grazie a tutti 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 Il contatore Grazie a tutti Esatto Grazie a tutti Lo stick Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Quindi se Grazie a tutti Questi Grazie a tutti Quindi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Nemico Grazie a tutti 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 Vedete Grazie a tutti Grazie a tutti È possibile Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti